E' stato presentato dal Rettore Liborio Stupì e il nuovo Direttore Generale dell'Università Danunzio Chieti Pescara Paolo Esposito. 58 anni, sostituisce Giovanni Cucullo. Nato a Chieti ha frequentato il Liceo Scientifico Masce ed è laureato in Scienze Politiche alla Sapienza di Roma. Un curriculum di tutto rispetto, il suo ha ricoperto il ruolo di direttore del personale in importanti compagnie nazionali e multinazionali. Tra le altre cose nel 2012 è stato nominato dal Governo alla Guida dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere in carico ricoperto per i successivi sei anni. Nel 2019 è diventato Direttore Generale del Gran Sasso Science Institute. Tra gli obiettivi che si troverà sul tavolo della Direzione Generale della Danunzio, il Rettore Liborio Stupìa. Sì, oggi presentiamo ufficialmente il nuovo Direttore Generale che ha preso servizio venerdì. è stato selezionato attraverso una prova in cui sono stati esaminati da una commissione costituita ad hoc 17 candidati. Lui è risultato quello col punteggio maggiore e quindi verificato anche il curriculum e la presenza di qualità che sono quelle che cercavamo noi. È stato quasi automatico scegliere nella rosa e nominarlo Direttore Generale. Già ci sono degli obiettivi precisi? Sì, perché in realtà io avevo chiesto in fase di selezione di verificare quanto i candidati avessero studiato il programma da rettore che in realtà è una sorta già di piano strategico e che si basa su tre punti fondamentali internazionalizzazione, sviluppo di inizio e potenziamento della tecnostruttura. A proposito di obiettivi, qual è il primo in assoluto che si pone il nuovo DG Esposito? Sul solco di quanto indicato dal rettore abbiamo un obiettivo di fare sviluppo di inizio nei territori, chi di pescara, quindi abbiamo una possibilità di spesa, dobbiamo portare come si dice i cantieri, aprire i cantieri, portare a terra la spesa. C'è sicuramente un discorso legato all'internazionalizzazione, io qui penso e spero di dare un contributo vista l'esperienza internazionale sia nel settore privato che nel settore pubblico. E' un rafforzamento della struttura amministrativa, a breve usciremo anche con dei bandi.